Allora innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere presenti, saluto tutti i relatori che sono qui accanto a me, ovviamente dalla dottoressa Immacolata De Simone che è il dirigente del settore istruzioni, innovazione sociale e sport, Dennis Luigi Censi della consulta tra le fondazioni delle casse di risparmio marchigiane, Luigi Biagetti presidente regionale Aclimarche, Alfonso Sabatino come rappresentante forum del terzo settore e Simone Bucchi presidente del CSV Marche. Questa è una conferenza stampa che abbiamo appunto voluto realizzare per dare quelli che sono i dati di un progetto molto importante che la regione Marche ha avviato lo scorso anno dal titolo Welfare Cult. In realtà con questo diciamo bando che poi è stato fatto dove abbiamo voluto mettere anche lì in rete i comuni, più che altri comuni scusate, le diciamo associazioni del terzo settore che hanno partecipato, l'obiettivo è quello di contrastare gli effetti dell'esclusione sociale, della precarizzazione e anche della marginalizzazione che molto spesso conducono appunto alla povertà. Siamo praticamente convinti comunque che la cultura in maniera particolare possa essere anche un modo per regalare diciamo così benessere, benessere alle persone. E questo non lo dico io, ma lo dicono ovviamente i dati che abbiamo a disposizione perché è diciamo scientificamente provato che laddove si fa cultura che potrebbe essere appunto andare a teatro, che potrebbe essere leggere un libro oppure visitare una mostra, questo produce comunque degli effetti proprio benefici sullo stato psicofisico della persona. E qui abbiamo voluto fare quindi una sperimentazione per la prima volta, quindi diciamo avvalerci del lavoro sempre tra l'altro molto proficuo degli organi, degli enti, soprattutto del terzo settore, cercarli di coinvolgere appunto in ambito culturale. E quindi ne è uscito questo progetto che appunto ha portato tra l'altro dei risultati molto importanti e molto significativi sul territorio, perché sono tante le attività appunto che grazie a 12 partner e 22 associazioni che poi in realtà sono state appunto coinvolte, questo ha dato la possibilità di portare appunto diverse attività nei territori e quindi lo scopo diciamo noi riteniamo che sia stato raggiunto. E come dicevo ringrazio innanzitutto il capofila Agli che diciamo ha coordinato appunto i vari partner e poi le relative associazioni e speriamo appunto che possano esserci anche altre iniziative di questo genere che appunto attraverso l'opera degli enti del terzo settore, sempre ovviamente come dicevo in un'ottica di rete, perché lo abbiamo fatto già anche in ambito culturale, proprio lavorare in un'ottica di rete, perché siamo ovviamente convinti anche in questo caso che la rete sia lo strumento migliore affinché le nostre azioni possano poi avere dei risultati concreti nel territorio. Io ovviamente non mi addentro nello specifico di quelle che sono state le attività che sono state fatte, perché i relatori che poi appunto mi seguiranno in questo incontro ovviamente lo faranno loro. Io però mi sento innanzitutto di ringraziare veramente tutti per nuovamente per il grande lavoro di squadra, in questo caso che è stato fatto. Grazie. Adesso lascio ovviamente la parola alla dirigente del settore, Immacolata De Simone. Buongiorno a tutti, ben ritrovati ad alcuni di voi con cui già abbiamo avuto un modo di scambiare, confrontare e condividere questa nuova esperienza che in parte è partita e in parte partirà. Questa esperienza nasce dall'esigenza di attivare un processo di rafforzamento delle reti organizzative, delle reti associative del terzo settore. Questo perché? Perché sul territorio marchigiano sono presenti numerose associazioni di piccole e medie dimensioni. Noi siamo convinti, come ha detto prima l'assessore, che mettere in rete consente di fare dei percorsi di condivisione, di collaborazione, di condivisione di iniziative, di best practice, che consentono anche a questi enti, a queste associazioni, di poter rispondere in modo più immediato e diretto alle mutevoli esigenze delle comunità di riferimento. Il progetto quindi nasce dalla volontà sia della Regione e dei principali organismi rappresentativi del terzo settore, che confrontandosi con la Regione hanno ritenuto di dover sostenere questa attività progettuale che è stata finanziata col Fondo Nazionale dell'Annualità 2021 del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro e un progetto quindi di rete territoriale e regionale di tipo A di un importo di 319.951 euro che pone appunto la cultura come strumento per combattere delle situazioni di disagio sociale, marginalizzazione e anche come obiettivo usare quindi la cultura come strumento di welfare generativo per le comunità di riferimento. Vi è un capofila che è la Climarche, che avrà il compito di coordinare quindi le attività di altre 12 associazioni e in più avremo altre 22 associazioni, i cosiddetti fornitori di servizi, che anche loro verranno coinvolti in questa attività nell'erogare, nello svolgere iniziative e attività in ambiti e settori specifici. L'attività progettuale dovrebbe concludersi a gennaio 2024 come da cronoprogramma condiviso e numerose sono le attività che le associazioni chiamate a rispondere hanno intenzione di mettere in campo, però per questo ecco semmai più nel dettaglio poi dopo quando il presidente dell'ACLI interverrà o anche il presidente del CSV Marche ci indicheranno più nel dettaglio le varie iniziative che vedrete sono destinate a un ampio pubblico, si va dai giovani, agli anziani, soggetti con disabilità. si è cercato appunto di rintracciare e raggiungere la più ampia fascia di persone anche alla luce del fatto che uscendo da una situazione di isolamento possiamo dire anche sociale in cui si è vissuto a secolo della pandemia si è sentita ancora più viva l'esigenza di dover intervenire in attività di socializzazione e di recupero alla socialità di tali gruppi. Ecco, io termino qui e passo la parola al... Grazie, ringraziamo la dottoressa De Simone e adesso lascerei la parola a Denis Luigicenzi come responsabile della consulta appunto tra le fondazioni Cassi di Risparmio Marchigiane perché comunque rivestono un ruolo fondamentale nell'ambito sia del terzo settore che della cultura. Sì, grazie Assessore, buongiorno a tutti. Come è stato anticipato io rappresento in quanto Presidente Pro Tempore della consulta delle fondazioni di origine bancaria e delle Marche rappresento tutte le otto fondazioni di origine bancaria che insistono sul territorio della regione Marche. Le nostre strutture, i nostri enti non sono inseriti giustamente tra gli enti del terzo settore nella legge che disciplina il settore appunto, il terzo settore, però veniamo citati come soggetti che sono di supporto al terzo settore e infatti in quanto tali noi da oltre 30 anni, da quando esistono queste fondazioni di origine bancaria la cui nasce la risale al 1991, noi da oltre 30 anni sostanzialmente abbiamo come principali destinatari della nostra attività le associazioni sul territorio, piccole associazioni, associazioni più strutturate o associazioni temporanee, non so come si chiama APS, non mi sembra, come in questo caso di cui stiamo discutendo oggi. Quindi la nostra interazione con le associazioni è frequente, continua, diffusa su tutto il territorio della regione Marche ma anche le altre fondazioni sorelle nelle altre regioni italiane e forniamo supporto finanziario e anche quando ce lo chiedono quando è necessario anche l'expertise, il consulenza, il know-how, quello che possiamo mettere a disposizione, la rete di conoscenze. Poi abbiamo anche degli obblighi di legge, noi abbiamo un accantonamento obbligatorio di circa il 3% del nostro risultato di gestione che va a finanziare i centri per il servizio del volontariato, del CSV e quindi anche lì di nuovo è un intervento che facciamo, questo previsto per legge che mantiene l'attività, adesso non parlo del CSV perché c'è il Presidente che sa parlare meglio di me della funzione del CSV, comunque è di nuovo a servizio del mondo delle associazioni. Poi, e arrivo a questo progetto qua, abbiamo all'interno della consulta ideato nel 2019 uno strumento finanziario che si sta rivelando molto utile per le associazioni, cioè abbiamo creato un fondo di garanzia, quindi abbiamo messo una cifra, complessivamente 500 mila euro, poi siamo andati presso una banca, abbiamo trovato come nostra interlocutrice la banca intesa, abbiamo stipulato un accordo che prevede, primo che la banca intesa mette in questo fondo 5 volte quello che mettiamo noi, quindi abbiamo un effetto leva pari a 6, quindi arriviamo a un monte di garanzia di 3 milioni, poi che ci si fa con questo fondo di garanzia? lo mettiamo a disposizione delle associazioni quando devono prestare delle garanzie a vario titolo, se vogliono andare in banca a prendere un mutuo, se devono fare una fiduzione, cioè quando hanno bisogno di, in genere le associazioni sono sottocapitalizzate, cioè non possono mettere, quindi in passato magari il presidente in prima persona si esponeva al rischio dell'insolvenza, dell'iniziativa e quindi diciamo, insomma non era tanto bello un procedimento di questo tipo, volontariato sì, ma questo era anche un po' troppo e quindi con questo fondo abbiamo dato questa copertura e questo fondo viene utilizzato, attualmente è utilizzato per il 30% circa ed è rotativo, nel senso che quando un'associazione ha terminato la funzione per cui l'ha chiesto, quella entità di fondo ritorna a disposizione per qualcun altro, quindi attualmente il 30% è impegnato, il 70% è libero, in particolare abbiamo prestato la garanzia per la fiduzione che il pool di associazioni che hanno dato vita a questo consorzio hanno dovuto per legge presentare alla, credo alla regione Marche, come prevedono le norme, come giusto che sia in qualche modo e quindi questo ha permesso l'avvio, la sostenibilità finanziaria e l'avvio di questo progetto e quindi diciamo dietro le quinte c'è questo nostro supporto che permette poi questa attività che è diffusa su tutta la regione Marche e che insomma credo che porti qualità, miglioramento della qualità della vita dei cittadini marchigiani in qualche modo. Grazie. Grazie Presidente e adesso lasciamo la parola a Luigi Biagetti come Presidente regionale della Climarche che appunto è l'ente capofila di questo progetto. Grazie. Grazie, grazie innanzitutto all'assessore per questa occasione di condivisione, di promozione del nostro progetto. Sulla scia dell'esperienza in particolar modo nata durante il periodo della pandemia dei progetti di rete dove tante associazioni che già hanno delle loro redi no? Quindi le associazioni un po' più grosse anche lì come tante altre della regione con l'aiuto, il sostegno, il coordinamento del centro servizi del CSV si sono sperimentati in questi anni i progetti di rete e questo è nato ecco dietro al bando della della regione è nato questo nuovo progetto welfare cult relazioni cultura e benessere che seguendo un po' le linee date dal bando appunto ha dato continuità, cerca di dare continuità a quella che è stata che in parte è ancora l'emergenza dovuta al covid perché i disagi le difficoltà sono ancora molte. Con questo come accennava l'assessore con questa ottica questa sperimentazione che è il discorso della cultura, quindi arrivare al benessere della persona attraverso la cultura, questo è il welfare culturale e le ACLI assieme agli altri 11 partner che sono già reti a loro volta e abbiamo stimato circa 600 presenze sul territorio come circoli, luoghi dell'associazione oltre a tante piccole associazioni che in qualche modo vanno a sostegno ad aiutare le attività, si è messo insieme questo progetto che forse ecco sembrerebbe un po' molto vario ma in realtà ha un unico obiettivo appunto questo del benessere delle persone attraverso tanti aspetti più strettamente culturali, naturalmente la musica, il teatro, il teatro sociale per diciamo prevenire le situazioni o comunque andare a sostenere quelle situazioni di marginalità ma anche passeggiate, gite, laboratori in varie situazioni, in vari ambienti, quindi tante associazioni diverse con un unico scopo, un unico obiettivo per aiutare fondamentalmente insomma aiutare le persone a ritrovare un po' il benessere, a ritrovare serenità attraverso la cultura che è una base a cui forse qualche volta non tutti hanno accesso, quindi questa diffusione sul territorio dà possibilità anche magari a persone che normalmente non riescono a usufruire di uno spettacolo teatrale o di un'altra di un altro evento, la grossa diffusione sul territorio permette di arrivare a più persone insomma, quindi ecco questo è Welfare Cult che è entrato nel cuore, ha preso avvio da un mese poco più, abbiamo tutto l'anno davanti e speriamo di riuscire a ottenere i risultati insomma che ci siamo prefissi. Grazie. E adesso lascio la parola all'Alfonso Sabatino che è rappresentante del forum del terzo settore con il quale tra l'altro collaboriamo spesso proprio per tutte quelle che sono le attività che la Regione Marche mette in campo nel terzo settore. Grazie. Grazie a lei Assessore per l'invito, innanzitutto mi corre l'obbligo di portare i saluti del portavoce ufficiale del forum del terzo settore che è Diego Mancinelli, il quale intervengo in sostituzione perché a causa di progressi impegni non riusciva a partecipare a questo evento ma chiaramente il forum ha sicuramente piacere di confrontarsi e di presentare questo nuovo se vogliamo progetto con la Regione Marche che come giustamente accennava Assessore è l'ultimo di tante esperienze positive che sono state fatte in passato. Perché? Perché questo rappresenta effettivamente proprio nel concreto un'importante sinergia tra l'amministrazione pubblica ed il terzo settore. attività che comunque hanno permesso di esaltare l'importanza della rete e faccio mia una considerazione del Presidente Biagetti che faceva poc'anzi una rete in cui partecipano altre reti, perdonando il gioco di parole. Cioè questo ci ha insegnato che insieme si costruisce tanto e bene. Questa rete è molto diversificata perché da una parte ci sono Regione Marche e forum del terzo settore che svolgono la propria azione e che potremmo definire politica ma politica intesa come attività che si riferisce alla vita pubblica. Quindi insieme si cercano di identificare i bisogni e di indirizzare le attività verso una direzione precisa. Poi ci sono le altre reti, quelle appunto del terzo settore ODB, APS e quant'altro che invece svolgono la fondamentale azione di sviluppare tutte queste azioni pensate a monte capillarmente perché sono presenti capillarmente sull'intero territorio regionale quindi concretizzando le linee di indirizzo che si sono precedentemente fissate. Un'altra parte fondamentale di questa rete è il CSV Marche perché svolge un altro ruolo fondamentale, cioè quello di supporto tecnico organizzativo per tutta la rete di associazione e anche di interfaccia con la Regione Marche per tutti quelli che sono gli annipimenti burocratici. Quindi possiamo dire effettivamente una rete molto ben costruita in tutte le sue parti. Questo progetto in particolare che ricordiamo è il quarto progetto a rete comunque un segno tangibile del successo di esperienze che in passato sono state pionieristiche, parlo del primo progetto similare ma avendo visto che funzionava che poi in effetti è stato riproposto ogni volta cercando di affinare meglio gli obiettivi le finalità. Quindi si è partiti da un progetto a rete che serviva per affrontare l'emergenza Covid in piena pandemia, un altro progetto che è stato utile a gestire tutta la fase di ripresa potremmo definirla post pandemia, un altro progetto rivolto al terzo settore perché anche il terzo settore non è uscito indenne dal Covid, anzi ha avuto necessità e tuttora ha necessità di ricostituirsi perché comunque si è perso tanto anche all'interno dell'apporto volontario più in generale delle attività prestate dal terzo settore. Quindi questo progetto in particolare Welfare Calt è sempre comunque una risposta alla pandemia come ben sappiamo però con un approccio diverso che è fondato appunto sul raggiungimento del benessere attraverso dei contenuti culturali. È una cosa fondamentale in questo momento e sicuramente da non sottovalutare perché la cultura comunque fa parte della vita e fa parte anche della ripresa della nostra identità personale dopo un momento oggettivamente difficile come è stato quello del periodo pandemico. Tra l'altro se volessimo fare un parallelo con le ultime notizie di cronaca, quelle delle ultime settimane, noi vediamo che in generale i numeri del turismo di massa sono in aumento ma vediamo anche che questi numeri non riguardano solo le persone che vanno in spiaggia a prendere il sole ma vediamo anche che tutti gli eventi culturali dai musei ma più in generale eventi musicali eccetera sono comunque pieni e strapieni. Segno tangibile che c'è una volontà, un bisogno da parte delle persone di rivolgersi, di attingere diciamo anche a una crescita propria culturale. Quindi sicuramente questo progetto va esattamente in questa direzione. Grazie. Grazie e ora lascio la parola a Simone Bucchi come presidente del CSV Marche, per noi appunto un partner prezioso soprattutto per il supporto tecnico che fornisce. Prego. Grazie Assessore, voglio partire con un ringraziamento vero a tutte le associazioni che hanno aderito a questo grande progetto perché poi sono un po' la nostra anima. Forse pensare a percorsi di questo tipo non sarebbe possibile anche nella nostra regione se non avessimo un tessuto così ricco e così pronto a scommettere con noi sulle cose da fare. Acli ha lanciato un po' il sasso in uno stagno però è stato proprio raccolto questo invito a combattere insieme una bestia che è davvero molto difficile che è quella della povertà. Ci sono dei dati nella nostra regione da cui siamo partiti per darci questo obiettivo che sono anche importanti, che sono un po' allarmanti. Allora abbiamo pensato a tutte le marginalità, abbiamo pensato a tutte le persone che fanno fatica e insieme un po' con il forum, con le ACLI, con la regione che ci ha dato l'input che fosse il caso proprio di occuparci di questo problema. Ci occupiamo di questo problema in una maniera un po' particolare rispetto agli altri progetti che abbiamo fatto e lo facciamo attraverso le proposte culturali, attraverso quello che è, lo diceva benissimo Alfonso prima, la proposta di tante attività da fare, di socialità anche da fare sui territori e queste non si fanno se non c'è una grande partecipazione anche da parte di quei 600 presidi territoriali di cui Luigi Biagetti ci parlava prima. Sono tantissimi, sono molto diffusi i centri nevralgici delle nostre attività e sono tutte realtà che si muovono perché c'è voglia nella nostra regione di darci una mano, di collaborare e di costruire qualcosa insieme. Sono tutte persone che lo fanno proprio per fare volontariato perché sentono che nelle loro comunità c'è bisogno anche di questo. Io credo che un tema come questo qui non si affronta a suon di contributi ma ci voglia proprio la partecipazione delle persone, delle associazioni. Noi come CSV in questa azione di welfare generativo, ne parlava così prima la dirigente, noi in questa azione facciamo quello per cui siamo finanziati anche dalle fondazioni bancarie, che ringrazio, e facciamo la parte tecnica, cioè togliamo alle associazioni tutte quelle incombenze che rischierebbero di soffocare la loro attività. Se ne parla spesso di quanto la burocrazia un po' ci tiene agganciati a delle cose da fare che magari ci distraggono da quello che è il vero scopo che abbiamo, il CSV si occupa invece di tutta quella parte lì sperando che liberando energie poi le associazioni possono far meglio quelle che sono le loro azioni. Così abbiamo fatto anche con le fondazioni bancarie. Io mi ricordo quando nel 2019 abbiamo cominciato a ragionare le fondazioni che sono un soggetto spesso silenzioso ma molto attivo, le fondazioni ci hanno chiesto di che cosa avete bisogno e noi gli abbiamo detto abbiamo un grande problema perché ogni volta che dobbiamo finanziare le nostre attività i presidenti devono firmare di pugno loro e impegnando anche i loro beni per dare delle garanzie. Le fondazioni così si sono attivate e io le ringrazio tantissimo perché ci mettono in mano uno strumento molto utile. Le fondazioni insieme con la banca intesa ci hanno detto vi diamo noi le garanzie, voi fate le attività e qui fanno un po' quello che facciamo anche noi come CSV, cioè mettono il sistema nella condizione di agire al meglio. Per cui un grande ringraziamento con la regione stiamo facendo davvero un lavoro credo straordinario perché non capita da tutte le parti che CSV, forum, fondazioni, regione, l'impegno di tutte le reti associative, di tutte le associazioni a fare. A noi magari sembra normale perché siamo qua ma non è così e quindi il ringraziamento vero va alla regione perché ogni volta che ci viene un'idea ci accolgono e insieme cerchiamo di portarla avanti per quello che si può. Grazie. Bene innanzitutto io ringrazio ovviamente tutti voi presenti e se ci sono delle domande siamo qui a disposizione e altrimenti chiudiamo questa conferenza stampa con l'impegno quindi sicuramente di rivederci poi al termine di questo progetto, di questo percorso per insomma analizzare insieme i risultati che sicuramente insomma ci saranno e saranno appunto positivi perché appunto il fatto di lavorare in rete insieme grazie appunto al CSV Marche, alle fondazioni, all'ACLI, al forum del terzo settore insomma veramente insieme sicuramente possiamo fare la differenza per i nostri territori. Quindi grazie veramente a tutti. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono un presidente di un'associazione nata da poco. Sono di Iesi, faccio parte di Auser e Iesi insieme a PS, è nata il 15 maggio però è un anno che praticamente ho collaborato con un gruppo di Pesaro Fano per la provincia di Pesaro Urbino sul progetto Viridee e quindi avendo fatto tutte queste esperienze, avendo lavorato fondamentalmente in rete mi sono resa conto quanto sia importante raggiungere tutte le associazioni e lavorare insieme ognuno da il suo meglio e quindi siamo partite più di un anno fa e abbiamo lavorato tantissimo insieme e anche se dovevamo fare della strada ma non ci siamo mai stancate e quindi un buon 50 persone hanno lavorato sodo per raggiungere gli obiettivi. Io avendo questa associazione nata da poco, quindi diciamo che mi sono rivista e nelle varie incontri, le varie persone che hanno esposto le loro motivazioni per cui è importante. Quindi una prima parte per le fondazioni Casse di Risparmio di Iesi, l'ho usata da poco presentando il progetto e chiedendo uno spazio. Poi per quanto riguarda l'ACLIC ho lavorato insieme appunto a Fano. Il CSV e il terzo settore sono il nostro pane quotidiano e quindi io devo dire solo grazie a tutte queste possibilità. I nostri associati sono tutti molto motivati, diciamo ho un mix di persone oltre 60 anni ma ho anche tante persone giovani che credono nel volontariato e si stanno impegnando tantissimo. Mi auguro che il tutto ci porti a fare qualcosa di bello. La ringrazio. è lei, grazie.